Anche qui tanti bei gol, vediamo subito risultati e classifica di questo girone che si sta giocando di sabato, sempre un girone molto interessante Fabrizio. Sì, un girone interessante, anche un girone molto difficile dove il Lecce da quando è arrivato Oliverani sta facendo veramente delle cose incredibili, vittoria su vittoria, adesso l'ultimo pareggio, però un pareggio importante e credo che il Lecce sia la squadra sulla carta da battere. È logico, Catania ha delle potenzialità importanti, il campionato è iniziato da poco, il campionato sarà lungo, difficile, però credo che queste due squadre insieme al Trapani si contenderanno la vittoria del campionato e quindi la risalita direttamente in Serie B.